Più di 70 pullman, un nutrito contingente di funzionari di polizia perché non si sa mai, e poi decine di assistenti sociali, interpreti, addetti e delle associazioni. A Calais in mattinata è iniziato il via vai in quella che ormai è ex giungla, la baraccopoli smantellata nei giorni scorsi. Lì erano rimasti ma per pochi giorni in alcuni container, 1500 minori non accompagnati che ora vengono portati via, alcuni non vogliono. I francesi sono venuti con la sicurezza, la polizia, uno alla volta sono venuti tutti, hanno detto dacci i tuoi bagagli, vestiti tutto e sali sull'autobus, ma noi non vogliamo salire su quei bus, vogliamo andare in Inghilterra, solo in Inghilterra, non in Francia. I primi pullman sono partiti verso sud, in direzione di Carcassonne e Sainte-Marie-de-la-Mer, a bordo anche alcuni funzionari britannici, il Regno Unito si è impegnato ad accogliere quei minori a condizione che abbiano effettivamente una famiglia da raggiungere. Gli altri, quelli che nel Regno Unito non hanno nessuno, dovranno restare in Francia, non vogliono, alcuni scappano, un problema che il governo cerca di affrontare come può. Non possiamo permettere che dei minori non accompagnati circolino per strada senza protezione, quindi se scappano da Calais per mancanza di chiarezza o paura, dobbiamo capire che si tratta di persone vulnerabili, dobbiamo fare di tutto per riportarli nei centri di identificazione e farlo con metodo e umanità e spiegare loro cosa succederà poi, dice il ministro dell'Interno. L'evacuazione dei minori dovrebbe essere completata nelle prossime ore, poi nel campo resteranno solo 400 tra donne e bambini. Lo spostamento in centri specializzati è previsto entro il fine settimana. A quel punto la giungla che ospitava tra le 8 e le 10.000 persone non esisterà più.